La parola rivolgo a ciascuno di voi un cordiale saluto, ringrazio il Vescovo Adriano anche delle sue parole, ringrazio la Presidenza dell'Azione Cattolica per l'invito e permetterete di rivolgere un saluto particolare affettuoso a Pierpaolo per l'amicizia, per la condivisione di tante cose e voi siete anche fortunati perché potrebbe dire le cose che io dirò in maniera anche più intelligente, più stimolante, quindi condividiamo tante cose. Mi piace qui ricordare anche all'inizio di questo incontro Don Paolo, Don Paolo per me è un nome che ricordo subito ogni volta che penso all'Azione Cattolica e penso all'Azione Cattolica di Piacenza. Ci darei però subito a dire una cosa, è uno sguardo disincantato sugli adulti, quindi io devo parlare un po' male degli adulti, in particolare dei nati tra il 1946 e il 1980. Ecco da un rapido sguardo un po' dei volti vedo che ci rientriamo un po' tutti, però ecco vi posso assicurare che da alcune informazioni pescate da amici, ecco gli adulti dell'Azione Cattolica di Piacenza non rientrano, ecco sotto le categorie terribili, che io dovrò utilizzare per parlare degli adulti, ecco oggi. Quindi non parliamo di voi, parliamo di quelli delle diocesi a fianco, ok? Quindi non è qui, non faccio specchio, non c'è un esame di coscienza da fare. Dobbiamo parlare ecco di questo mondo adulto che è il mondo che ha più di ogni altro subito delle trasformazioni radicali, alcune delle quali legate anche a dei processi evolutivi estremamente significativi, estremamente positivi e che in qualche misura vanno anche benedetti, di cui tutti noi oggi godiamo. Ovviamente poi, come sempre, la vita umana presenta tanti intrecci e quindi anche alcune cose che nascono o si offrono all'umanità come positive possono, se non contenute, se non inserite in certi contesti, possono anche poi trasformarsi in qualche misura come degli elementi controproducenti. E' un po' questa la storia che vorrei raccontarvi questa sera, partendo da una consapevolezza che è nata innanzitutto in me, che bene descriveva prima il Vescovo, e cioè che in questi anni di lavoro sulla questione della trasmissione della fede, il mio punto di partenza è sempre stata la trasmissione della fede, ricordo che sono stato anche a Piacenza, sempre invitato per Paola a parlare del mondo dei giovani più di dieci anni fa ormai, e appunto partendo da queste analisi e soprattutto ecco dalla trasformazione che in qualche misura contraddistingue dalla novità che contraddistingue il mondo giovanile, e quindi parliamo qui dai nati dopo il 1980, sempre più mi sono reso conto che per intuire che cosa capita, sta capitando nelle generazioni dei nostri ragazzi, dei nostri adolescenti, era necessario fare un passo indietro, e cioè studiare più approfonditamente le generazioni che le hanno date alla luce, le generazioni che ne curano la formazione, ne curano l'educazione, ne curano anche l'avviamento verso una possibile forma di spiritualità, di devozione. La grande scoperta è stata proprio questa, che guardando la nostra realtà nel suo complesso, la vera novità non è rappresentata dal fatto che noi abbiamo i nativi digitali, ma la vera novità, pensata sulla storia della specie, è che gli adulti non sono più quelli di una volta. Questo va presso innanzitutto come una descrizione, come un risultato di ciò che viene davanti ai nostri occhi guardando la realtà. Ovviamente già solo, pensate numericamente, la prima volta nella storia della nostra specie è che gli adulti sono così numerosi. Parlo ovviamente dei contesti occidentali. In Italia, per esempio, in Attita, il 1946 e il 1980, le due generazioni giovani di adulti alle quali facciamo riferimento, quindi i boomers, 46-64, e la generazione X, 64-80, sono insieme complessivamente 31 milioni. Se noi prendiamo il gruppo giovani, quindi, diciamo, per stare a quella che fu indicata la fascia giovanile al sinodo del 2018, 16-29 anni, in Italia coloro che rientrano in questa fascia d'età non raggiungono neppure 10 milioni di persone. Quindi, giusto per dire, questo è quello che così simpaticamente viene chiamato il fenomeno del degiovanimento. Cioè, negli anni 50 ogni genitore aveva molti figli. Nel 2022 ogni figlio ha molti genitori. Questo è un po' il campo, questo è giusto per dire, non so, un altro esempio a questo livello. Nel 68, il tempo della rivoluzione, la presa di parola ai giovani che finalmente esprimono anche il loro punto di vista, la massa giovanile rappresentava un quarto della società. Attualmente, nella società italiana, parlo sempre della società italiana, attualmente i giovani a mala pena riescono a essere un settimo della società. Questo perché è importante dire? Perché, ecco io, faremo questa analisi, questo sguardo disincantato, metterò in evidenza alcune contraddizioni, alcuni aspetti estremamente discutibili del mondo adulto, però dobbiamo tenere presente che non è che io dico che tutti quelli nati dal 1 gennaio 1946 al 31 dicembre 1980 sono tutti Peter Pan, ecco, non potrei dirlo, ma una gran parte di questo mondo adulto per me trova in Peter Pan un'icona, una cifra piuttosto significativa. Ma, ecco, qual è un po' il percorso che ho predisposto per voi? Innanzitutto, ecco, che cosa è successo al mondo degli adulti negli ultimi 40-50 anni? E come queste trasformazioni hanno davvero portato alla luce un modo di vivere, di poter vivere l'età adulta che è qualcosa di assolutamente inedito. Il secondo passaggio prova a mettere in evidenza un altro elemento, cioè che l'unica realtà che si sta prendendo cura del mondo degli adulti è il mercato. Il mercato ha capito benissimo questa trasformazione degli adulti e la sfrutta, la alimenta, la dirige per i propri interessi e questo dà vita anche a quella trasformazione molto discutibile degli adulti appunto in Peter Pan. Il terzo momento sarà dedicato invece un po' a cogliere quali sono i guai che combina Peter Pan, soprattutto su due grandi versanti, il versante dell'educazione e il versante della trasmissione della fede, che sono due ambiti per noi assolutamente decisivi, importanti. L'ultimo passaggio, un po' una piccola provocazione sul livello della pastorale. Ecco, questo percorso che voi avete immaginato in tre puntate, diciamo così, alla fine ha come punto di arrivo quest'idea, ecco, percorsi pastorali. Io, ovviamente poi c'è il vescovo che ha il, diciamo, coordina tutto quanto, ma permettetemi che la spari grossa, ecco, così, giusto, per svegliarsi, considerata anche l'orario e così via. Cioè, se vogliamo fare sul serio e non possiamo non volere fare sul serio, qui non è che si tratta di fare percorsi pastorali, ma si tratta di una conversione pastorale complessiva. Il modello pastorale che noi abitiamo e che ci abita non è all'altezza della situazione che abbiamo davanti. Questo non è un giudizio, come dire, negativo, moralistico e, diciamo, spero anche di mostrarlo, la considerazione che ci viene proprio nella misura in cui operiamo questo sguardo sul mondo degli adulti di oggi. Allora, partiamo dall'inizio. Cosa è successo agli adulti? Perché gli adulti non sono più quelli di una volta? Perché il Novecento, questo secolo breve, come viene detto, concentrato in qualche misura, si presenta come l'insieme di una serie di trasformazioni quantitativamente estremamente numerose, ma che in qualche misura a un certo punto, proprio per la sua natura di secolo breve, si uniscono e danno vita a delle rivoluzioni che non sono più semplicemente sul livello quantitativo, ma sul livello qualitativo. Per usare un'altra coppia di aggettivi, la specie, dopo il Novecento, viene sottoposta a un tipo di evoluzione, un tipo di salto, un tipo di cambiamento che non è semplicemente lineare, ma è esponenziale, detto in maniera semplicissima. Tra noi, nati dopo il 46, e i nostri genitori e i nostri nonni, la differenza nella possibilità di vivere l'umano va computata in milioni di volte di differenza. Non c'è una differenza così come tra i nostri genitori e i nostri nonni e bisnonni, è una differenza anche minimale, ma tra noi e i nostri genitori il modo di vivere l'umano, il modo di abitare l'umano, quindi di mangiare, di dormire, di pensare alla propria vita, al futuro, ai figli, di pensare al senso delle cose, ai valori, tutte queste cose che contribuiscono proprio l'umano e milioni di volte differente rispetto a quello dei nostri genitori. E questo perché appunto il Novecento ci consegna rivoluzioni dal punto di vista culturali, una libertà di pensiero, un abbattimento di tabù straordinario, a tal punto che oggi l'unica cosa condivisa è che non c'è niente di condiviso nei nostri immaginari. Facciamo fatica anche a essere d'accordo con noi stessi, figuriamoci con la propria moglie, col proprio marito o col proprio vescovo, cioè non è così, ecco, questo è cambiamenti di libertà di pensiero, di culture, di immaginari. Poi c'è l'altro grande elemento che il Novecento ci regala ed è questa evoluzione enorme, pazzesca, della tecnologia. A partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quando i due fronti appunto provano a distruggere letteralmente l'altro, accade che gli scienziati abbiano tra le loro mani tutte le risorse di questo mondo e danno vita a un investimento sul tecnologico pazzesco. La bomba atomica da una parte, pensate Hitler progettava degli aerei invisibili, no? Questo perché è poi tutto quello che è stato fatto e questo, diciamo, questo investimento bellico ha poi un effetto straordinario all'indomani della guerra. Pensate che già nel 69 riusciamo a mandare un uomo sulla Luna e non c'era neppure l'iPhone ancora, quindi questo per dire già quanto. Poi l'altro elemento, l'elemento che questa conoscenza tecnologica viene molto utilizzata nell'ambito della medicina e della ricerca farmaceutica, con tutta una serie di ritrovati chimici o di nuove possibilità di conoscenza dell'organismo umano che fa sì che appunto le nostre conoscenze sul livello medico, sul livello farmaceutico sono impressionanti. Se noi andiamo per un momento a quella che fu la vita dei nostri genitori, da questo punto di vista voglio dire non è che erano molto lontani dagli uomini del medioevo, no? Io ricordo quando ero bambino e avevo mal di denti, diciamo la tecnica che funzionava molto e che mi davano un po' di grappa e passava tutto. Ecco, era quello un po' il metodo per affrontare questo tipo di situazioni. Poi mettiamoci dentro il boom economico. Negli anni sessanta questo davvero porta all'aumento delle quote di benessere a disposizione dei cittadini, ovviamente poi con gli anni ottanta la finanzializzazione dell'economia, quindi la trasformazione radicale della dimensione economica e da ultimo la grande rivoluzione che investe la comunicazione e cioè la rivoluzione digitale che per gli umani non è una cosetta da niente. Noi siamo parlesseri, dice Jacques Lacan, che è questo famoso psicanalista citato dal più famoso dei calcati, no? Lacan. Ecco questo tizio qua dice noi siamo fatti di parole. La trasformazione che il digitale permette, pensate quello che stiamo vivendo noi appunto questa sera, è davvero apre orizzonti incredibili. Ora tutto questo cosa fa? Va a impattare su degli elementi fondamentali della vita, soprattutto degli adulti. L'insieme di questi elementi che ho velocemente richiamati, che sono la grande eredità del Novecento, vanno a impattare sulla condizione elementare dello stare al mondo della popolazione, della popolazione adulta e in particolare sui nati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il primo elemento è quello che grazie alla ricerca medica, alla ricerca farmaceutica, grazie al fatto che le abitazioni sono fatte come oggi sono fatti con i riscaldamenti d'inverno, l'aria condizionata d'estate. Cosa succede? Succede che la specie diventa longeva. Abbiamo acquistato 30 anni di vita in più e 20 di questi 30 sono di ottima salute. Pensate, la nostra è stata sempre una specie piuttosto, come dire, con una vita breve. Questo per esempio impatta moltissimo sui maschi. I maschi avevano sempre una vita breve, sia per le condizioni, per le scarse conoscenze mediche. Pensate, i grandi della storia sono tutti morti per problemi cardiaci. Oggi con la cardio aspirina è difficile, insomma, se hai problemi di cuore e muori ci devi mettere tu qualcosa dentro, perché altrimenti non è... Ecco, quando già nel 1969 a dicembre Charles Barnard in Sudafrica compie il primo intervento a cuore aperto, capite che siamo in un altro contesto. Va a impattare molto sulla vita degli adulti maschi, che in qualche modo i lavori usuranti, quindi senza ancora tutti questi strumenti, no? Poi dalle vostre parti dove si lavorano gli animali, i campi con gli animali. Adesso abbiamo tutti questi strumenti che sono veramente interessanti e molto performativi. Gli adulti, i maschi morivano quasi tutti intorno ai 55 anni. Questo era anche uno dei motivi per cui non c'era il divorzio, perché lui moriva a 55 anni, quindi capite che... No, la vita andava avanti molto diversamente dalla nostra. Non c'erano problemi di divorzio, non c'erano problemi di disoccupazione, non c'erano problemi di parcheggio, non c'erano neppure problemi di affitti e di case varie, perché le generazioni più o meno morivano e davano lo spazio alle altre di prendere il loro posto. Oggi siamo in una condizione completamente diversa. Giusto per fare un esempio in casa nostra, in Italia abbiamo 220 vescovi ordinari, come il vescovo appunto Adriano, ma abbiamo quasi 210 vescovi emeriti. Giusto per darvi l'idea, tra un po' gli emeriti supereranno. Ed è una cosa bella, cioè non è che adesso dobbiamo... Ma capite che il senso profondo che la nostra specie ha sempre tratto dall'idea di morire e di sapere di dover morire, si allontana. La morte diventa un elemento che non è più nella quotidianità, a tal punto che oggi noi viviamo un incredibile esorcismo anche linguistico della morte. Nei necrologi, come sapete, non si dice più che tale o tal'altra persona è morta, ma si usano delle espressioni molto carine. È scomparso, è venuto a mancare, si è spento, ha smesso di lottare, ha compiuto l'ultimo transito, si è ricongiunto con la moglie, normalmente perché comunque i maschi continuano a morire un po' prima rispetto alle donne e così via. Non so, anche avvenire, tutti i giorni dice che un sacco di preti sono andati nella casa del padre. Va a capire che sono morti, capisci, per come vengono formulate queste cose. L'altro elemento che ha un impatto tremendo e che facciamo anche un po' fatica perché noi ci siamo già dentro. Queste cose hanno creato, pensate, questa vita lunga con tante possibilità. l'altro elemento che ha avuto una grande impatto è la diffusione della tecnologia, non solo per quanto riguarda il lavoro extradomestico, ma anche per quanto riguarda le faccende domestiche. Io dico sempre nei miei incontri, no? Dico alle signore, ecco, al termine di questo incontro date un bacio alla vostra lavatrice. Perché la condizione delle donne cambia radicalmente quando le case iniziano a diventare dei luoghi che non assorbono al cento per cento le energie femminili. Lavatrice, lavastoveglie, bimbi, forno a microonde, estrattori di succo, frigoriferi, di tutto e di più. Abbiamo adesso la lavatrice, l'asciugatrice, arriverà la tiratrice. Capite? Tutto questo permette alle donne un respiro e una possibilità di dedicarsi a loro stesse, ai loro interessi, che prima era semplicemente impossibile per la mancanza di tempo. Questo, per esempio, ha anche a che fare con la denatalità. Nel passato si facevano molti figli perché servivano molte braccia. Pensate, chi possedeva dei campi, chi possedeva degli animali, aveva bisogno di braccia che facessero così. Ma questo, pensate, ha liberato le energie femminili, ha trasformato la condizione femminile che, non dimentichiamolo, portò un certo signore, Sigmund Freud, a inventare la psicanalisi per superare il problema dell'isteria. Oggi gli unici isterici sono i maschi. Basta vedere quello che è successo con le elezioni del Presidente della Repubblica, no? Ma il passato ci consegna una condizione femminile segnata da molte frustrazioni. Possiamo paradossalmente dire che l'unica soddisfazione della vita delle donne del passato è che lui moriva a 55 anni. Dopodiché non è che c'era molto su cui divertirsi. Ma queste donne che per la prima volta nella storia della specie hanno la possibilità di guardare al tempo come risorsa da investire personale, è chiaro che sono un fenomeno nuovo. E quindi noi, per esempio, abbiamo oggi donne che studiano, per fortuna donne che raggiungono posizioni importanti, donne che hanno una possibilità, come dire, che il passato semplicemente non aveva. L'altro elemento è che la condizione media dei cittadini, dal punto di vista economico, aumenta in maniera incredibile. Certo, noi possiamo lamentarci quanto vogliamo sulla crisi, ma noi siamo la prima specie che può comprare cose inutili. Ok? O meglio, siamo i primi rappresentanti della specie che si può permettere di comprare cose inutili. Abbiamo case piene di doppi pantaloni, doppi scarpe e così via. Basta tornare un attimo indietro per vedere come anch'io ho ricevuto in eredità le giacche di mio zio, i pantaloni dell'altro zio e poi mio fratello e così via. Ecco, tutto un altro. La specie, pensate, la nostra che era una specie abituata alla povertà, abituata alla fame. Ora, pensate che il grosso problema del sistema sanitario del futuro sarà l'obesità. Passata questa pandemia, e speriamo che siamo sulla buona strada, sarà, non mi guardate male, ma diciamo è il problema dell'obesità. Il grosso problema di una città come Roma, quando nasce la città di Roma, così come noi la conosciamo all'indomani e nei pressi della Seconda Guerra Mondiale, era la fame e quindi molti dei paesi circostanti vennero qui e si dice che si mangiavano pure i gatti, quindi non solo a Vicenza, ma anche qui. Oggi il problema di Roma è i rifiuti. Capite? Perché si compra molto di più, non si gestisce bene, tutto questo. Quindi una... e questo è un cambiamento enorme. La nostra è una specie, diciamocelo chiaramente, una specie formica. Noi siamo stati in grado proprio di fare tutti i cambiamenti, anche di diventare Homo sapiens sapiens, grazie proprio a quest'attitudine. Adesso siamo un altro tipo di... viviamo un altro tipo di condizioni. L'altro elemento cambia il nostro rapporto con il reale. Il passato ci consegna un'umanità che è abituata al sacrificio, che è abituata anche alla sofferenza. E qui per sofferenza intendo proprio la sofferenza fisica, la sofferenza, pensate, del freddo, la sofferenza della fame, la sofferenza anche di andare incontro a malattie per le quali era difficile anche stabilire alcune cose. Cioè c'erano appunto i cosiddetti rimedi della nonna, ma i piccoli dovevano anche abituarsi un po' anche a sopportare questo lato, questo tratto di asperità del reale, che fa parte della sofferenza e così via. Noi oggi abbiamo una società che ci protegge da ogni tipo di dolore, che ci fa risparmiare ogni tipo di dolore. Abbiamo farmacie in tutti i quartieri e nella farmacia abbiamo farmaci potentissimi per qualsiasi tipo di disturbo. È veramente incredibile questo passaggio. Mi è stato detto che per esempio per il ciclo mestruale femminile in farmacia vendono 4-5 analgesici diversi a secondo dei tipi di disturbo che la donna in questione presenta. Pensate un po', giusto per darvi un'idea, è continuo a questo tipo di ricerca. La nostra è una specie sostanzialmente, per lungo tempo è stata una specie analfabeta, ignorante. La trasmissione del sapere era ridotta a pochissime persone. I preti erano un po' quelli che ne capivano un po' di più nel passato, perché pensate, insomma, fino a Gutenberg non c'era la possibilità di avere libri. Poi dopo Gutenberg non è che i libri li chiamavi su Amazon e t'arrivavano, perché per fare un libro comunque ci voleva un sacco di tempo. Ma appunto oggi abbiamo una quantità di informazioni e abbiamo la possibilità di formarci anche personalmente grazie a questo sistema della comunicazione che è impressionante. E la specie diventa più consapevole di sé, più capace anche di esprimere quello che vuole, ma non solo più capace nel senso soggettivo del termine, ma anche a mezzi e strumenti grazie ai quali poter far sentire la propria voce. Ecco, tutto questo che cosa comporta? Comporta che le condizioni elementari della vita degli adulti cambiano in maniera straordinariamente positiva e fanno sì che quelle due generazioni che citavo prima, i nati dopo il 46, quindi i boomers 46-64 e la generazione X 64-80 cambiano sguardo sulla vita. Ecco, se vogliamo avere uno sguardo disincantato sugli adulti, il compito principale, questa è la mia lettura delle cose, quindi poi siete liberissimi di contestarmi, poi vi fate fare una bella relazione da Pierpaolo, vi darà tutte le fesserie che io sto dicendo, ma io sono convinto di questo, cioè che per avere uno sguardo disincantato sugli adulti è necessario riappropriarci dello sguardo che come adulti abbiamo sul reale e noi siamo i primi, i primi che amiamo questa terra. Noi siamo i primi a cui questo mondo piace. senza andare troppo lontani, noi veniamo da gente come Platone che diceva che la vera vita era da un'altra parte e poi non si sa per quale motivo stacacchio di biga si è spezzata e siamo arrivati qua. Noi veniamo appunto la nostra specie appunto che ha inventato il buddismo, che ha inventato l'induismo, no? L'anima si è appesantita, i karma, i contro karma e siamo arrivati qui. Noi siamo la specie che ha inventato il salve regina e questa è una valle di lacrime. Ora, se voi guardate Piacenza, vi sembra proprio una valle di lacrime, cioè così, io guardo Roma, c'è una città dove ci sono 120 gelaterie aperte fino a mezzanotte. Ora, con quale coraggio possiamo dire che Roma sia una valle di lacrime? Con tutti i ristoranti aperti che ci sono, i bar aperti che ci sono. A Roma ti puoi prendere un cornetto caldo alle tre di mattina. Allora sì, capite il cambiamento potente. Noi siamo l'incarnazione di quello che Nietzsche dice tramite Zarathustra e i suoi fratelli. Fratelli, amate la terra. Noi l'amiamo la terra. Questa terra ci piace tantissimo. Noi adoriamo la terra. Noi siamo arrivati al punto in cui non c'è cosa del nostro corpo di cui non ci prendiamo cura. Io ho scoperto finalmente cosa sono i centri onicologici. Sono andati in un centro onicologico e mi hanno curato le unghie dei piedi e delle mani. Capite? Cioè, voi avete presente il film di Pozzetto, no? Quello lì quando per tagliare quell'unghia. Cioè, capite da dove veniamo, no? Noi siamo una specie che amiamo talmente il mondo, le sue possibilità, che c'è gente che prima compra le calze, le calze gallo e poi compra i pantaloni. Capite? Siamo i primi ad avere un amore per la terra, per le cose che ci offre e e questo amore si trasforma come amore della potenza, amore della libertà, amore appunto di tutto ciò che adesso è a nostra disposizione. Questo non vuol dire che non ci siano i poveri, non ci sia la povertà, ma lo spazio mentale per accettare come normale, ordinario, la povertà e i poveri non c'è più. La maggior parte di noi è convinta che i poveri sono un problema dei poveri, sono loro che hanno combinato qualche guaio, che non hanno saputo sfruttare fino in fondo questo momento. Noi non abbiamo più lo spazio mentale per pensare a qualcosa positivamente a questo tipo di cose, perché per noi noi siamo totalmente attratti da quest'idea di potenza, di godimento, a quest'idea appunto di godimento e di piacere della vita che poi ha trovato una sua simbologia molto eh chiara, molto semplice, come dire, pescando dentro l'immaginario atavico dell'umanità nel senso della giovinezza. Noi vogliamo restare sempre giovani. Vogliamo restare sempre giovani nel senso di sempre aperti a tutte queste possibilità di godimento che il mondo ci offre. E poi ovviamente vogliamo anche restare giovani nel nostro aspetto fisico, ma c'è il vero problema non è Peter Pan, non è solo una questione di capelli tinti eh di rughe che vengono in qualche modo rimosse eh o di un certo tipo di abbigliamento che a volte sembra più abbagliamento per chi lo vede no? Proprio che ha più degli abbagliamenti no? Pensate pensate quelle persone che sono convinti che dopo i settantacinque chili si possono ancora usare i leggings no? Ci vorrebbe una legge forse su questo tipo di eh di situazioni. Ma stiamo qua. Ma il problema è dentro, capite? Cioè noi vogliamo mostrarci giovani perché vogliamo dire al mondo intero ma innanzitutto a noi stessi che qui è la festa e finché ce n'è come dice Ligabue noi vogliamo azzannarla questa terra, questo mondo. Questo vedete va ma noi possiamo non dobbiamo subito moralizzare tutto questo e fa parte dei cambiamenti. Noi dobbiamo essere contenti che i maschi non muoiano più a cinquantacinque anni, che le donne possano studiare, possano dedicarsi a quello che sentono come più congeniali alla loro vita, che la nostra non è più una società della povertà, una società dell'ignoranza, una società costretta a sopportare dolori che tutto sommato oggi si possono tranquillamente eh risparmiare. Non è questo l'atteggiamento ma il primo atteggiamento è appunto capire questo cambiamento profondo e ciò che Papa Francesco ci dice non viviamo un'epoca di cambiamento ma un cambiamento d'epoca e ovviamente un cambiamento d'epoca che pone una serie di possibilità nuove straordinarie che in qualche misura possono dare alla testa perché è capitato topo rapidamente. Da un punto di vista dell'analisi più ampia, la nostra è una specie che ha fatto i passaggi più importanti attraverso periodi di anni lunghissimi. No, vi ricorderete quando abbiamo studiato l'età del fuoco, l'età del ferro, l'età del fuoco, l'età del bronzo, ma passavano milioni di anni tra una cosa e l'altra. Qui nel giro di una generazione, due generazioni, c'è stato questa accelerazione pazzesca. No, Papa Francesco in laudato si usa questa espressione come sempre anche abbastanza carina, rapidazione. Questo è quello che ci è capitato. Ovviamente tutto questo, questo elemento, da chi è stato compreso? È stato compreso solo dal sistema capitalistico. Le altre istituzioni, per tante ragioni, la politica, il mondo della scuola, anche appunto anche noi come chiesa, sebbene la chiesa come sempre si muove sempre un po'. Pensate, nel 2004 i vescovi italiani ci regalarono un documento eh appunto sulla eh natura appunto eh missionaria, il compito missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, al numero nove di quel documento c'era scritto papale papale o ripartiamo dagli adulti o siamo fritti. Per cui le intuizioni già c'erano, ma se noi andiamo anche ai documenti nel Vaticano II troviamo queste indicazioni, anche a Verona le cose sono state ripetute, anche nel documento incontro a Gesù, ci sono queste, ma oggi è davvero come dire il covid, questa esperienza ci mette davanti a a qualcosa che ormai eh solo se ci chiudiamo gli occhi non vogliamo non vogliamo non vogliamo cogliere. Ecco, ma mentre la chiesa, le grandi istituzioni erano eh ancora così indecise, perché anche nella chiesa voi sapete c'è stato e c'è ancora una parte che immagina che il nostro sia un mondo che cambia, che quindi le trasformazioni che io prima ho velocemente richiamato siano sostanzialmente delle eh dei processi lineari che impongono dei cambiamenti nella chiesa, ma non tali da immaginare una conversione davvero a centottanta gradi. E quindi c'è questo questo anche questo atteggiamento un po' così, ma tutto sommato, no? Io lo vedo anche quando eh parlo dei giovani, no? Per esempio dice sì, e dice ah ma tu, tu che sei calabrese pessimista, dice sempre che i giovani dopo la crescima se ne vanno, però poi vedi che torneranno, no? Torna, cioè abbiamo ancora quest'idea che poi tornano al matrimonio, al battesimo del figlio, cioè sono queste cose, ancora un po' rimane dentro la nostra, oppure dici ecco adesso sì i ragazzi dopo la crescima o dopo la prima comunione vanno via, però poi quando affronteranno i grandi dolori della vita, no? Quando eh oggi è molto complicato perché vedete che i ragazzi sono talmente eh qui lo dirò un po' dopo ma su questo per Paolo è cioè sono talmente eh custoditi nelle loro famiglie, protetti nelle loro famiglie eh rilegati in ambienti detraumatizzati, fortemente detraumatizzati, che poi si devono fare male loro stessi per capire cos'è il dolore, no? Le forme di eh appunto di autolesionismo o il tatuaggio queste cose perché ecco quindi per dire come è cambiato e così via. Ecco ma l'unico che ha capito tutto, l'unico che ha intuito è stato il sistema economico, ha intuito che l'umano adulto post bellico con questa storia della potenza, del godimento, del giovanimento, si è messo del scusate della giovinezza eterna, si è messo in una posizione facilmente come dire eh prona verso uno scivolamento straordinario, cioè verso quello che possiamo dire un vero e proprio rimbecillimento, dove la parola rimbecillimento va presa nella sua letteralità, cioè come mancanza di presa surreale, l'imbecille è uno che non ha un punto d'appoggio surreale. E il sistema economico ha intuito, fa di tutto per avvallare questo tipo di deriva e alimenta appunto l'emersione di questo Peter Pan nei nostri adulti. Cioè gli dice sì è proprio così, hai capito tutto, il senso della vita, il senso dell'umano è godersene finché ce n'è. Fare di tutto per restare giovani. Ehm fare di tutto per essere sempre in forma, sempre sessualmente pronti sotto ogni condizione eh meteorologica, essere sempre capaci di rinnegare qualsiasi tipo di legame che potrebbe in qualche modo fissarti in una certa condizione. Questo è importante. E il sistema economico, grazie al sistema pubblicitario, grazie al sistema dei mass media, grazie appunto a tutto questo intreccio del mondo digitale che ci avvolge e ci coinvolge da ogni parte riesce benissimo in questa operazione. Pensate cosa non riesce a fare eh per quanto riguarda appunto il discorso cosmetico, il discorso dei viaggi, il discorso delle esperienze, il discorso dell'abbigliamento. Qui vedete è riuscito a mettere insieme gli affetti e gli affari di degli adulti in maniera davvero in un intreccio straordinario. Pensate in Italia ogni anno vengono spesi cinquanta milioni di euro per lozioni contro la caduta dei capelli. Ma tutti sappiamo che l'unico farmaco in grado di arrestare la caduta dei capelli è il pavimento. Pensate la pubblicità potente che viene fatto nei confronti delle donne a proposito appunto della questione estetica eh queste creme. Ma se noi andiamo ad analizzare più da vicino il linguaggio che viene utilizzato da queste eh pubblicità non è un linguaggio eh diciamo così leggero, è un linguaggio terroristico, letteralmente terroristico. Cioè questi dicono alle donne che se non usano quelle creme, quei miscugli fatti dalle api dell'Africa, da fiori presi chissà da dove, questi rischiano appunto il cedimento cutaneo. C'è bisogno di rimpolpare, c'è bisogno di ristrutturare, c'è bisogno di cacciare via i radicali liberi, capite? Cioè questo è un linguaggio terroristico. No? E sono tutte grandi cavolate, grandi cavolate, non funziona niente. Non funziona niente di tutto, di tutto queste cose qui. Ma riescono molto bene in quest'operazione. E allora ecco qui noi comprendiamo che il nostro vero competitor o meglio il competitor di chiunque si pone eh in qualche misura oggi a eh diciamo così accanto al mondo degli adulti non per maledire in qualche modo per eh demonizzare questi cambiamenti ma per aiutare il mondo degli adulti a vivere questa eh questa realtà onorando il vero senso dell'umano si trova ad avere a che fare con un competitor che è un competitor idiota perché il sistema economico è idiota in quanto pensa solo a fare soldi e dopo che ha fatto soldi a cosa pensa? A fare altri soldi e dopo che ha fatto soldi a che cosa pensa? A fare altri soldi. Un sistema idiotico che è difficilissimo. Voi sapete avere a che fare con un sistema di questo tipo. Quindi per questo dicevo che quando poi farete i conti cioè capite che la pastorale qui eh è chiamata davvero in un in discussione messa in maniera molto forte, molto radicale. Allora ecco è qui che noi poi facciamo il passaggio successivo. Perché? Perché a noi interessano tanto questi adulti? Perché interessa tanto questa trasformazione, questa deriva giovanilistica, questa forma di rimbecillimento che un po' li ha eh li ha ci ha afferrati. Dai mettiamoci pure noi. Chi di noi pur essendo appartenente alla specie Homo sapiens non ha mai comprato la maionese light. Eppure a pensarci bene la maionese light fa parte proprio di questo raggiro straordinario. Prima perché le differenze in termini di calorie tra la maionese normale e la maionese light è minima. E secondo perché ciascuno di noi di fronte alla maionese light fa un ragionamento estremamente semplice. Ne mette un po' di più tanto è light. Ma alla fine il compito delle calorie è decisamente superiore se uno invece avesse mangiato la maionese normale. Perché è impossibile presentare un prodotto che fa ingrassare che fa ingrassare di meno. Cioè fa sempre ingrassare. Ma noi crediamo nell'esistenza di questi prodotti appunto così strani che ci vengono tranquillamente portati. Ma perché ci interessa? Perché vedete nella conversione giovanilistica che è in parte secondo me anche comprensibile e così via. Cosa è arrepentaglio? È arrepentaglio il senso dell'umano. Quel senso che potremmo esprimere con due parole che sono parole molto importanti. L'esperienza dell'umano si racchiude in due grandi aggettivi. È un'esperienza generazionale ed è un'esperienza generativa. Che poi sono anche le grandi parole dell'azione cattolica. Cioè nessuno viene al mondo se non tramite la generazione che l'ha preceduta. E ordinariamente nessuno lascia il mondo senza contribuire alla generazione che verrà. Questo è il primo elemento generazionale. Il nostro corpo è fatto per fare figli. Poi ci si può anche divertire col proprio corpo ma la missione principale è quella di fare figli. Siamo figli e siamo chiamati a fare figli. L'umano si gioca in questa prima grande verità. L'altra verità è la generatività. Cioè quella capacità di mettere al primo posto la generazione che verrà. Vedete noi siamo l'unica specie che è dotata di questo tratto particolare della cura della generatività che è un tratto sommamente anti economico. Perché noi siamo veramente generativi quando sospendiamo la coltivazione del nostro interesse per prestare cura all'altro che poi è l'altro bambino, l'altro ragazzo, l'altro che incontriamo nella nella nostra vicenda che si trova in difficoltà. I nostri, le nostre orecchie e il nostro cuore è capace di farsi carico del grido di aiuto che l'altro ci invoca e di comandare questa sospensione della coltivazione dei propri interessi. Questo è l'umano nella sua forma più bella. Non è un caso che anche ieri il Papa lo ricordava quando Gesù deve spiegare qual è il comandamento dei comandamenti ci mette dentro il buon samaritano che è proprio l'icona di questo tratto generativo di cura dell'umano. Allora la economia, il sistema capitalistico, che cosa fa? Disabilita questo tratto generazionale e generativo perché facendo così imprime negli adulti una totale disponibilità a fare soldi, cioè a comprare nel momento in cui ti senti assoluto, quindi sciolto dalla catena generazionale, non sei più in grado di avvertire il grido di aiuto dell'altro, immagini che il mondo inizi con te e finisca con te e per cui tu sei degno del massimo di investimento delle tue risorse. Al sistema economico interessa solo quello. Il sistema economico, lo dicevo prima, è idiota. Al sistema economico non interessa se ci sarà un 2023. Al sistema economico interessa arrivare al 31 dicembre 2022 con un fatturato sperabilmente superiore a quello del 2021. E se per fare questo deve spegnere dentro gli adulti questi elementi lo fa senza alcun tipo anche con, vedete, anche con l'ausilio del discorso pubblicitario, l'ausilio dei grandi mass media, l'ausilio delle serie televisive, sfrutta tutto. Sfrutta anche Sanremo, sfrutta la qualunque perché sa che più gli adulti diventano in qualche misura stupidamente convinti che loro valgono il mondo intero, più sono disposti a spendere un sacco di soldi. Pensate se la nostra specie può permettersi, può permettersi che un calciatore valga 700 milioni di euro. Ma di che cavolo stiamo parlando? 700 milioni di euro per uno che tira calci a un pallone. Ma noi non siamo degni di coloro che sono venuti prima di noi. Eppure noi ormai, per noi questo è del tutto naturale, capite? È del tutto naturale per queste cose. Allora, perché questo è importante? Perché meno gli adulti onorano il tratto generazionale generativo, meno sono in grado, ma qui io sto andando, scusate, mi sono un po' invervolato, meno sono in grado di educare e di trasmettere la fede. Questo è il punto. A noi, gli adulti, che si siano l'imbecillini e siano diventati un po' così, non è che alla fine, vabbè, ma ci interessano perché le questioni educativa e la questione della trasmissione della fede è sempre un affare di famiglia. E se la famiglia non funziona sul livello educativo e sul livello della trasmissione della fede, il lavoro delle agenzie extrafamiliari è immensamente più difficile. Si può certo aiutare un bambino a crescere fuori dalla famiglia. Si può certo trasmettere la fede anche fuori dai contesti familiari. Ma sono cose complicatissime, al limite della possibilità. Perché il corpo del genitore, vedete, il corpo di mamma, il corpo di papà, è la testimonianza prima e fondamentale che un bambino ha davanti a sé. Il bambino legge il mondo e ciò che troverà nel mondo attraverso il diaframma del corpo del genitore. E se quel corpo non parla di crescita, non parla appunto di evoluzione, ma parla di questo eterno presente che è appunto il godimento a cui viene costantemente invitato dalla pubblicità. Se il corpo del genitore non parla di Dio, non parla del Vangelo, non parla della casa, non parla della Chiesa, scusate, è chiaro che Dio, Chiesa, Vangelo, così come crescita, adultità, responsabilità, maturità, semplicemente non faranno parte dell'immaginario dei nostri cuccioli. l'unica forza in grado di plasmare positivamente l'immaginario dei nostri cuccioli sono i corpi di mamma e di papà. Io l'ho scoperto questo, vedete, perché con tutte le mie analisi che ho fatto sul mondo giovanile, poi anche per Paolo ne ha fatte molte, le ha anche descritte in questi bellissimi libri dell'Istituto Toniolo della Cattolica, uno degli elementi che a un certo punto mi ha colpito e quello che è riguardato a quella che noi chiamiamo appunto la testimonianza dell'esperienza domestica della fede. Da un certo punto in poi, nelle indagini fatte sull'universo giovanile, noi, chi fa queste indagini, ha iniziato a chiedere cose del tipo, hai mai visto mamma pregare, hai mai visto papà pregare, hai mai sentito mamma parlare della chiesa, del vescovo e così via, oppure hai mai visto mamma o papà leggere per esempio il Vangelo? Ed è stato interessante scoprire come su questo punto non c'era nessuna memoria, nessuna memoria. Io stesso ho fatto un'indagine qui a Roma, in un grande quartiere, ricordo che dopo l'ennesima volta, dopo l'ennesima volta che avevo fatto una domanda, ma avete visto mamma pregare, avete visto papà pregare e così via? Insomma, un silenzio. Si alza un ragazzo e mi dice, senti, guarda, quando la Roma gioca fuori casa, papà si avvicina al televisore e secondo me prega. E un'altra ragazza si è alzata e ha detto, beh, se la mettiamo su questo livello, devo dire che mamma mia, la mia mamma, tutte le domeniche mattina, prima di salire sulla bilancia, recita il gloria al padre. Ecco, questo è il cristianessimo domestico a Roma. Adesso capite? E pensate che la prima indagine, in questo senso, venne fatta a Vicenza. Come sapete, Vicenza viene considerata la sagrestia d'Italia, è uno dei luoghi più, insomma, quella zona lì da dove viene anche il vescovo, ecco, questo Veneto, così, e lì si sono fatte le prime indagini, perché poi ci siete stati, sono queste chiese enormi, sembrano delle catedrali, in realtà sono parrocchie, no? Perché, ecco, ricordo questa prima indagine fatta dal professor Castegnaro, che si intitola appunto C'è campo, è un punto di domanda, e ricordo la mia sorpresa quando sulla pagina cinquantadue, lei sì, questo risultato, avevano chiesto a questi settantadue ragazzi che avevano selezionato, con dei criteri estremamente precisi e puntuali, per un po' rappresentare la, diciamo, la gioventù della diocesi di Vicenza, avevano fatto questa domanda, appunto, hai visto mai papà pregare, hai visto mai mamma pregare? E, insomma, con non poca sofferenza, il professor Castegnaro diceva che la risposta era mai, mai. Ecco, questo è il punto. L'adulto, non adulto, è un adulto che, cioè l'adulto Peter Pan, l'adulto che obblia il tratto generativo e generazionale dell'essere umano, che è proprio quello che ci rende umani e che nell'età adulta dovrebbe manifestarsi nella sua forma più forte e sempre meno diventa incapace di educare e di, in qualche misura, avviare a una prassi di fede. Direi di più, questo so che è un tratto cinico mio, lo perdonerete, ma alla fine dei conti Peter Pan non solo non vuole crescere e godersi la vita senza invecchiare mai, senza morire, restando per sempre giovani, ma Peter Pan non fa crescere. Non solo non vuole crescere, ma non fa crescere. Peter Pan ritiene che i figli non abbiano bisogno di una religione. Questa è la questione ultima e radicale. Ecco, la questione pastorale. Tutto questo ci pone davanti alla domanda molto semplice. Ma noi, adesso, fino a questo momento, che cosa abbiamo pensato per gli adulti? Qual era la luce che, in qualche misura, ha orientato l'atteggiamento ecclesiale nei confronti della popolazione adulta? Ecco, io ritengo di avere individuato, ma è una pista di ricerca, quindi nessuna infallibilità in quello che dico, anzi, di aver individuato nella categoria della compassione un senso all'azione pastorale di chi ci ha preceduto. L'idea guida era, possiamo dire, platonica agostiniana. Esiste un trauma enorme nel venire al mondo. L'umano che viene al mondo subisce un trauma incredibile. Entra in questo finito che copia sbiadita dell'Eterno, in questo finito che è una prigione, in questo finito che è luogo di sofferenza, valle di lacrime, di pianti, e il cristianessimo si presenta come forma di contenimento del trauma dell'essere nato. Un trauma che emerge in tutta la sua potenza quando si diventa adulti. Quando si diventa adulti, il trauma dell'essere nato e quindi del dover rispettare leggi naturali, leggi sociali, leggi culturali, leggi biologiche estremamente costrittive e estremamente frustranti, in qualche misura può essere contenuto, pensate, appunto, l'idea di dover morire, l'idea di dover affrontare malattie. Io ricordo ancora quando ero piccinino che mia nonna mi diceva, lo dico in piemontese puro, dopo la quarantina una malattia a mattina, cioè dopo i quarant'anni una malattia ogni giorno, e da piccolo seminarista ricordo questa preghiera così dolce, così affettuosa, che ci facevano ripetere prima di andare a nanna. Signore, donaci una morte santa e rapida. Ecco, questo era il modo carino con cui noi giovani seminaristi ci preparavamo. Parliamo di quarant'anni fa, no? Come è cambiato il trattamento dei moribondi oggi? Io ho portato mia nonna tre volte in ospedale, io l'ho portata morta e l'hanno fatta risorgere. Mia nonna ci ha messo sei mesi per morire. Cioè, io la portavo lì e dico prepari il funerale, dopo due giorni i medici, no, sta bene, tanto di, gli mettevano tanto dentro di potassio, ma che cavolo so io, dico che mia nonna è risorta per tre volte. Cioè, capite? Ed è una cosa bella, cioè, non è che, è questo il mondo in cui noi viviamo. Allora, la categoria della compassione, la categoria di Cristo come colui che ha patito e ci può compatire, essere compagni della sofferenza, compagni in questa valle di lacrime, Cristo che ci apre a questa promessa potente di una terra celeste alla quale non possiamo non desiderare ardentemente di andare, perché qui la terra è veramente gemiti e lacrime e pianti e dolori da ogni parte, questo oggi non può funzionare più. Allora voi capite, non entro nei particolari, ma capite il nostro modo di organizzare, il modo di vestirsi dei preti, il colore nero, no? Oggi il nero va bene perché snellisce, ti fa sembrare più giovane, ma il nero non è che richiama un elemento, richiama la morte, la finitezza, i tuoi peccati, il senso tutto, il nostro sistema pastorale. Ecco, io penso che ci serve una pastorale che sia in grado di rimettere al centro questo richiamo alla bellezza dell'umano adulto che trova in quelle due aggettivi che dicevo, appunto, il carattere generativo e generazionale, la propria cosa. E quindi che riesca in qualche modo, con l'aiuto appunto del Vangelo e dell'indicazione di Gesù, a indicare agli adulti che il modo migliore per godersi di tutto ciò che la specie ha guadagnato in così poco tempo, è appunto quello di essere in grado di, in qualche misura, ecco, di proiettarsi verso gli altri. Ecco, e questo ci serve allora una pastorale differente, diversa, che in qualche misura non immagini più di contenere il trauma, ma di reindirizzare tutta questa potenza di vita e questa vita di potenza, questa libertà di godimento e questo godimento della libertà in quella chiave generativa e generazionale che rappresenta il meglio del meglio che c'è in ciascuno di noi. E vi ringrazio per la vostra attenzione.